Pioggia di fondi al comune di Polla. Il sindaco Massimo Loviso e l'amministrazione comunale potranno usufruire di diversi finanziamenti che porteranno a migliorare i servizi del territorio. Quasi 7.000 euro da investire in attività culturali e nel miglioramento del museo cittadino, mentre oltre 276.000 euro saranno utilizzati per la digitalizzazione, in modo da aumentare la qualità dei servizi al cittadino e rendere più agevole il rapporto con l'utenza. Importanza però anche all'ammodernamento e all'efficientamento energetico, in particolare all'asilo nido in località Cappuccini, dove i fondi da investire saranno 700.000 euro. Un importo dunque pari a quasi un milione di euro, in attesa delle gare d'appalto che porteranno al miglioramento dei tali servizi. Intanto il comune di Polla è stato ammesso al finanziamento del Ministero dell'Interno per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva su tre interventi di messa in sicurezza e riqualificazione. Si tratta di circa 10 milioni di euro da investire nella messa in sicurezza dell'area ridosso della strada comunale di collegamento tra il Santuario di Sant'Antonio e il Centro Storico, l'area in dissesto alla località Clive, a monte della strada comunale Cappuccini e il lungo fiume Tanagro. Grande soddisfazione per il primo cittadino e tutta l'amministrazione comunale che adesso annunciano che nei prossimi mesi il comune di Polla potrebbe beneficiare di ulteriori risorse.